Cari amici, followers, oggi subivo l'aggressione di Capitan Micetta. Chi è Capitan Micetta? È il capitano più vigliacco che esista, e proprio per questo, secondo le fantastiche regole dell'Opus Dei, gli è stata assegnata l'astronave migliore. Ricordo una sera ad agosto, si mise per una mezz'oretta buona, sotto il terrazzo di casa mia a lanciare insulti, per poi andarsene a franto dicendo non ce la faccio a farlo salire a bordo. Ci vediamo nei prossimi videomessaggi!